Lo sport pesarese torna ad annusare profumo d'Europa e Little Service risponde presente. Fragoroso debutto in Champions League per la società di calcio a 5 che sabato a Podgorica in Montenegro ha regolato gli avversari di Titograd in un match mai in discussione. 6-0 il punteggio finale per i pesaresi grazie ai gol di Marcelinho, De Oliveira, Borruto, Canal, Fortini e Onorio. Le prestazioni è buone, secondo me abbiamo dominato tutta la partita dall'inizio alla fine e questo è quello che volevamo fare, non volevamo portare la partita al secondo tempo o magari alla fine della partita per non rischiare. Quindi bravi a tutti, bravi a tutti noi, complimenti a tutti perché abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare. Siete stati bravi anche nel secondo tempo a partita chiusa a quel punto a rimanere calmi e non è così scontato perché loro erano diventati abbastanza aggressivi quindi magari vi potevano tendere una trappola a livello di reazioni, di cartellini eccetera eccetera. Infatti abbiamo fatto pure bene in questo senso perché loro giocavano in casa e è normale che quando giochi in casa perdi di 4-0 a fine del primo tempo vuoi dimostrare un po' così di più. Però diciamo che siamo abituati perché l'anno scorso pure succedeva qualche volta e poi in Champions cambia molto il regolamento, i falli sono più aggressivi gli argi ti lasciano un po' più scorrere la partita però abbiamo fatto bene dal primo minuto alla fine. Molti meno sorrisi nel calcio perché Vispesero e Fano si avvicinano al derby del 6 dicembre gravate da una doppia sconfitta. Schizofrenica quella della Vispesero che in casa della neocapolista Padova ha perso 5-3 una partita che ha visto i biancorossi iniziare con uno scioccante 3-0 in appena 20 minuti. Capitan Gennari ha accorciato le distanze di testa sul calcio d'angolo sul finire del primo tempo. Di nuovo Padova a ristabilire le distanze con il 4-1 di Bifulco a inizio ripresa. Poi la Visresuscita con i primi gol stagionali di De Feo. L'attaccante Campano trova una doppietta su Assis di Cannavò e su rigore conquistato dallo stesso Cannavò per il 4-3 a 20 minuti dalla fine. La Vis ci crede ma la rimonte sullo sfiorata perché a fine gara arriva il 5-3 definitivo di Curcio per il disappunto di mister Daniele Didonato espulso a fine partita. Sul primo gol c'è stato un fallo non evidenziato su Deramo e quello è indirizzato a quei minuti che sono stati un po' particolari. Lì dobbiamo essere bravi a gestire quelle situazioni. Poi anche sul terzo gol c'era il fallo su Cannavò e per non parlare del quinto gol c'era un altro fallo. Purtroppo quando non si vedono questi falli grandi contro squadre importanti come il Padova si rischia di prendere gol e così è stato. Io penso che la Vispesa, a prescindere da tutti, merita rispetto, a prescindere dalla squadra che ha di fronte. Può avere anche la Juve ma in quel momento siamo disputati nella stessa categoria e quindi merita assoluto rispetto. Oltre questo c'è stata una grande reazione dei ragazzi che hanno cercato in tutti i modi di raddrizzare una partita nata male. Ci stavamo riuscendo perché a 9 minuti alla fine sul 4-3 stavamo spingendo tanto e il Padova, se uno tempo, non ricordo che oltre il gol, oltre la metà campo non è mai arrivata. Peccato appunto quell'errore, un nuovo errore arbitrale sul quinto gol che ci ha tagliato le gambe. Però i ragazzi hanno fatto una prestazione importante e hanno cercato in tutti i modi appunto di raddrizzare una partita nata male. Male la Vis, malissimo l'Alma Juventus Fano che perde ancora e arriva al derby di Pesero da ultima in classifica dopo il sorpasso dell'Arezzo. E dire che il Fano si era illuso col gol di Baldini dopo 8 minuti di gara. Nel secondo tempo la Virtus Verona ribalta il risultato e vince al Mancini 2-1 grazie ai gol di Marcandella e Carlevaris. Una partita da due volte purtroppo per noi. Nel secondo tempo ci siamo fatti sorprendere, non siamo più ripartiti e su un calcio d'angolo dove sapevamo anche questa situazione abbiamo dormito e poi da lì purtroppo non c'è stata la reazione giusta. La squadra ha accusato il colpo. Fino al gol è una buona partita. Bisogna lavorare e basta. Basta che la testa, lavorare, cercare di sbagliare il meno possibile, di essere più concreti e questa è la realtà dei fatti. Dal calcio alla pallavolo, momento magico per la Megabox Vallefoglia che balza in vetta al campionato di Serie A2 dopo aver battuto le calabresi di Cutrofiano per 3-1 nello scontro diretto al vertice.